Comincerà domani pomeriggio con la Coppa Italia di Lettanti la stagione ufficiale dell'Unitas Sciacca. I Neroverdi giocheranno la partita di andata contro il Castellammare sul campo neutro di Castelvetrano per vie dei lavori in corso sul manto erboso del Gurrera. Il ritorno tra 15 giorni a Castellammare del Golfo. Per Mr. Brucculeri ci sarà modo quindi di testare la squadra in un match probante in vista dell'avvio del campionato di eccellenza che avverrà la domenica seguente. È stato composto e sorteggiato infatti il Girone A e il calendario del torneo che vedrà lo Sciacca tra le formazioni protagoniste. Compongo nel Girone, oltre allo Sciacca, Castellammare, Cus Palermo, Parmonval, Acragas, Resuttana San Lorenzo, Casteldaccia, Nissa, Leonfortese, Nuova Città di Gela, Mazzara, Oratorio San Giro e Giorgio, Enna, Mazzarese, Profavara e Don Carlo Misilmeri. La prima giornata, come detto, si giocherà domenica prossima 4 settembre. L'Unitas Sciacca esordirà in trasferta sul campo del ripescato Nuova Città di Gela. La settimana successiva, l'11 settembre, per la seconda giornata, i ragazzi di Totò Brucculeri debutteranno al Gurrera contro il Casteldaccia. La terza giornata trasferta a Palermo contro un'altra squadra ripescata, il Cus, poi una sosta e il 2 ottobre in casa contro l'Oratore San Giro e Giorgio. I due derby agrigentini, invece, sono previsti il 16 ottobre al Gurrera contro l'Acragas e il 13 novembre con il Profavara, sempre tra le mura amiche. Mercato alla mano, Agagas, Nissa e Profavara sembrano le formazioni più accreditate per il salto di categoria. In casa Unitas si sta lavorando agli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione del tecnico. Si cercano soprattutto un terzino sinistro e un giocatore offensivo per completare i due reparti. La società, che punta ai playoff, ha grande fiducia nella squadra che è stata formata, con i giocatori seccensi che rappresentano la base della rosa.